buona giornata a tutti io sono stefano carini sono un fotografo e un foto editor e direttore di agenzie di foto giornalismo e sono qui con il piacere di avere stefano maria paci che a cui do il benvenuto grazie di essere qua con noi un piacere davvero un grosso piacere anche per me sono anche un po emozionato perché l'argomento di oggi è per me sempre molto importante io ho lavorato in iraq ho vissuto e lavorato in iraq tra il 2014 e 2015 dove ho mandato avanti la prima agenzia indipendente di fotografia in iraq era l'inizio della guerra con isis l'occasione è ovviamente il lo storico viaggio di papa francesco che si è da poco concluso in che un po la continuazione di un sogno proibito quello di giovanni paolo secondo che trovò il rifiuto sia da parte di saddam hussein nell'inizio del 2000 e anche molto ostacolato dagli stati uniti per ragioni politiche e quindi diventa ancora più importante stefano tu sei appena rientrato da questo viaggio e inizierei se sei d'accordo con il chiederti di descrivere un po le emozioni del vostro arrivo a bagdad e dell'incontro con la comunità cristiana alla cattedrale siro cattolica nostra signora della salvezza che clima avete trovato che accoglienza avete trovato da parte del popolera che ero guarda era è stato un viaggio straordinario soprattutto per le emozioni che ha trasmesso oltre che per i contenuti arrivando a bagdad ci siamo trovati immersi in una situazione stranissima c'è il governo ha fatto un coppipoco c'erano grandissime misure di sicurezza perché era veramente un viaggio pericoloso io so che anche la segretaria di stato aveva tentato di sconsigliare questo viaggio la scrittura di stato è un po il ministero degli esteri del vaticano di sconsigliare questo viaggio perché non c'erano le condizioni di sicurezza perché era una situazione molto pericolosa forse il viaggio più pericoloso fatto dagli ultimi pontefici e siamo arrivati e abbiamo attraversato una città il primo appuntamento era nel io ho viaggiato con il papa e durante il volo è passato a salutarci uno per uno a scambiare delle parole quando siamo atterrati siamo andati al palazzo presidenziale abbiamo attraversato una bagdad non c'è la guerra di fatto e ci sono stati molti attentati piccoli grandi ma c'è il lockdown il governo ha fatto un lockdown per la pandemia ma in realtà per il viaggio del papa tanto che scadeva l'otto quando quando finiva il viaggio abbiamo attraversato questa città in cui c'erano gli uomini armati a ogni angolo c'erano carri armati io non ho mai cioè carri armati non visti molto sono stato anche in paesi di guerra ma carri armati agli incroci ne abbiamo contati 14 nei 20 minuti dall'aeroporto al palazzo presidenziale e uomini che ci hanno che abbiamo per tutto il tempo visto per strada soldati nelle camionette e quando il nostro corteo dei giornalisti internazionali e del papa si spostava e avevamo camionette con soldati in assetto di guerra e mitragliatrici davanti e quando siamo andati poi ne parleremo gli ultimi giorni nel Kurdistan iracheno e poi siamo saliti dove l'Iraq ha fatto la sua roccaforte avevamo tre camionette davanti tre camionette dietro c'erano gli elicotteri che che ci accompagnavano nel passaggio e a Baghdad c'erano i droni che passavano sopra di noi quindi la situazione è molto sentibile il clima anche se non c'era guerra un clima di guerra insieme percepivi l'attesa del papa in un'azione musulmana questo è lo strano eh scita eh le trasmissioni le televisioni trasmettevano questo e il governo ha fatto mettere eh bandiere vaticane e dell'Iraq lungo le strade eh l'attenzione era altissima il papa sapeva che non avrebbe avuto se non nelle zone cristiane e al nord e le folle eh però era contento ci ha detto perché sapeva che le televisioni trasmettevano e la gente quindi sapeva che il papa era venuto lì quindi una grande attenzione da parte del paese eh anche politica perché la presenza del papa voleva dire un'attenzione internazionale questo è stato anche uno dei suoi obiettivi del viaggio riportare i riflettori su una situazione eh faticosissima dove i cristiani sono stati perseguitati in una maniera atroce dove ancora c'è un clima di guerra basta pensare che due giorni prima che arrivasse il papa sono stati sparati dei razzi proprio a Baghdad contro l'ambasciata americana eh tre o quattro giorni prima è stata colpita una base americana eh non a Baghdad ma con un morto quando il papa ha dato l'annuncio del viaggio dopo eh due anni o due anni e mezzo c'è stato attentato kamikaze nella piazza centrale di Baghdad e due persone sono fatte esplodere prima hanno fatto scoppiare dei petardi la gente è arrivata e si è fatto esplodere prima kamikaze morti feriti quando la gente è andata a soccorri riferiti un altro kamikaze proprio Baghdad dove eravamo noi quindi eh il papa ha voluto testardamente fare questo viaggio perché poi ce l'ha detto nell'aereo di ritorno ha detto nell'aereo andato ci ha detto eh io lo sento come un dovere andarci e nell'aereo di ritorno ci ha spiegato come nascono questi viaggi ci ha detto io ci penso molto prego molto e a un certo punto devo sentire che eh che devo farlo quindi una chiamata a fare questa cosa eh il papa quindi eh ha voluto andarci e devo dire che è stato uno dei viaggi più 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 straordinari che io abbia mai fatto per tante ragioni sembrava di stare in una zona di guerra sembrava di stare eh dentro la Bibbia perché abbiamo visitato i luoghi della Bibbia dove c'è la casa di Abramo eh la piana di Ninive cioè i posti che tu leggi nella Bibbia e ci sei sopra sei lì e calpesti quella che secondo la tradizione è la casa di Abramo da dove tutto è incominciata tutta la nostra storia e la storia della civiltà la storia nostra a cui fanno riferimento ad Abramo gli ebrei fanno riferimento ad Abramo i musulmani eppure anche negli altri sembrava di stare dentro gli altri degli apostoli perché siamo andati nelle città eh che sono state insanguinate da sangue dei martiri e la primo giorno lo dicevi eh siamo stati c'è stato l'incontro e dopo l'incontro con il presidente e le autorità del palazzo presidenziale eh che era prima il palazzo di Saddam Hussein poi è diventato il palazzo della della centrale americana e poi quando è incominciato un governo iracheno adesso è il palazzo del presidente e quindi stavo lì e pensavo qui c'è stato Saddam Hussein qui si prendevano le decisioni e dopo eh c'è stato l'incontro in cattedrale una cattedrale eh dove è stato fatto un attentato dieci anni fa quarantotto morti durante la messa due sacerdoti c'è ancora una eh una lunga striscia di marmo che è stato messo per indicare la lunga striscia di sangue è stato fatto durante la messa quarantotto morti per loro è incominciato il processo di vitificazione e il papa era lui stesso commosso e emozionato ce l'ha detto ce l'ha detto nel viaggio di ritorno sì. La mia prossima domanda si riferisce a questa testardaggine di papa Francesco no? Di voler durante la pandemia questo viaggio simbolico molto forte dai simboli molto molto forti e dopo la 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 tappa di Baghdad camminare sulle tracce di Abramo nella nella piana di Ur la biblica piana di Ur quindi la culla delle delle religioni monoteiste. Ci racconti un po' di questa esperienza e in particolare ovviamente lo storico incontro con la grande Ayatollah Sistani che ricordiamo è la più grande figura spirituale sciita in Iraq leader quasi politico direi le cui parole hanno un peso molto molto importante hanno avuto un peso importante durante la guerra con Isis cosa ci puoi raccontare di questi momenti di questo incontro così così importante? Sì questo questo obiettivo del papa è uno ormai chiarissimo lui è secondo me aveva tre obiettivi questo viaggio più uno tre obiettivi erano eh riaccendere i riflettori sul sul quello che succede in Iraq eh il dialogo interreligioso è la prima volta che andava in un paese sciita finora i rapporti del Vaticano sono con i sunniti anche lì aperti dopo eh problemi a un certo punto eh sciiti e sunniti sono le due grandi famiglie eh dell'Islam e sono spesso in contrasto anche sanguinoso tra di loro eh i sunniti eh a un certo punto hanno rotto completamente i rapporti con il Vaticano eh Papa Ratzinger aveva detto delle parole all'Angelus sensatissime dopo che era stato fatto un attacco in una chiesa copta in Egitto e allora il eh grande imam eh di della massima istituzione egistiana che un po' un punto eh di riferimento ha detto basta con il Vaticano si si mette in affari che non le riguarda non non dialoghiamo più con Francesco questo eh è rinato con i sunniti faccio dicendo al patto di fratellanza che hanno fatto hanno fatto hanno firmato ad Abu Dhabi eh al Tayeb il grande imam di Al-Azhar e il Papa un documento io ero lì eh e capivo che era un qualcosa di storico ad Abu Dhabi un documento che adesso viene e questo è straordinario viene studiato nelle università cattoliche nell'università pontificia e nell'università islamiche e e e lui ha cercato di aprire un dialogo anche con gli shiti e c'è una grande differenza come sai benissimo tu ma non tutti lo conoscono fra gli shiti sunniti i sunniti non c'hanno una gerarchia cioè noi abbiamo il papa abbiamo il cardinale abbiamo i vescovi i sunniti non ce l'hanno quindi eh se un se un imam qualsiasi fa una fatwa ha lo stesso valore se lo fa eh che lo fa una delle autorità più alta che il il grande rimamma di eh al-Azhar di università teologica eh sunnita eh al Tayeb o invece gli shiti hanno una gerarchia quindi al-Sistani è una autorità riconosciuta ma con gli shiti non c'è mai stato un dialogo da parte della chiesa gli shiti sono a in Iraq sono anche in Iran però c'è una grande differenza al-Sistani ha eh eh che è una grandissima figura spirituale in aereo di ritorno il papa eh l'altro giorno eh ci ha detto è un grande saggio e un uomo di Dio e sono stato onorato di andare ehm come dicevi tu anche un grande ruolo nel paese eh recentemente ci sono state delle insurrezioni eh perché per il caro vita per tutto scontri in piazza lui ha chiesto di eh non usare la violenza ai manifestanti ha chiesto alla polizia di non usarlo e tutti e due si sono fermati eh ha chiesto le dimissioni del governo il governo eh si è dimesso ed è stato fatto eh sta facendo un nuovo governo eh ha avuto come dicevi un grande ruolo nella guerra contro l'Isis perché eh li ha come dire eh se parafrasando le parole cristiane li ha scomunicati ha detto eh l'Isis non fa parte della regione quindi ha avuto un enorme ruolo di fronte al al suo popolo e ai suoi fedeli eh gli sciti iracheni a differenza di quelli iraniani sono convinti che eh non gli uomini di religione non devono governare cioè hanno una visione laica l'Iran invece come sappiamo eh è una teocrazia e questa è una grande differenza però nell'Iran stavano seguendo con grande attenzione le parole del papa e hanno seguito con grande attenzione proprio questo incontro tra Al-Sistani e il papa eh se ne è parlato Al-Sistani è stato un incontro privato tra l'altro veniva eh denominata visita privata visita privata eh secondo me era un modo da parte degli sciti di Al-Sistani di mostrare è il papa che viene da noi eh non siamo sullo stesso livello io ho visto tanti incontri eh in Turchia e in altri posti nel eh in posti ufficiali tra il papa e e le autorità religiose musulmane e bravo nella moschetta insieme. Invece di questo incontro io ho questa immagine molto forte no? Di di un di un luogo molto spoglio molto sobrio molto con pochissimo eh di grande umiltà un posto come io ne ho visti tanti a della verità poi in Iraq e questo mi ha colpito molto no? Cosa cosa dici tu di questo appunto di questa scelta di questo luogo per questo incontro? assolutamente vero infatti il papa che entra in questo piccolo vicolo di Najafra la città sacra perché lì è sepolto Ali il primo che si è convertito al al musulmanesimo era cugino e cognato di Maometto e c'è il più grande cimitero del mondo e sono convinti sugli sciti che chi viene sepolto lì va direttamente in paradiso quindi è una città importantissima e in questo vicoletto c'è la casa di Al-Sistani molto semplice molto umile il papa è andato è entrato eh il sottofondo politico era il papa viene da me viene da noi eh quello che poi invece si è realizzato è che Al-Sistani si è alzato io non lo sapevo ma eh per lui alzarsi è un un'ora incredibile non lo fa mai non lo fa neanche con le autorità non lo fa col presidente non lo fa con i pari grado eh grandi mami eccetera col papa si è alzato due volte eh non c'erano neanche le immagini perché l'ho vista privata e solo qualche foto un'autorità scita lo ha detto sotto anonimato evidentemente ho voglia di farlo uscire tanto che poi dopo sono uscite anche le immagini eh il papa in aereo due giorni fa ci ha detto è stato un grande onore eh che lui si sia alzato eh è stato un gesto di rispetto che mi ha emozionato e mi ha commosso e quindi eh di fatto questo dialogo eh ancora eh in forme iniziale eh però nasce eh il papa in aereo ha detto so che c'è chi dice che il papa è eretico è eretico perché fa queste cose ma queste cose qui eh sono le cose che ci ha insegnato il Vangelo e sono anche le cose che dice il concilio Vaticano II sono le cose che mi sento di fare e penso che eh questo sia quello eh che crea un mondo diverso perché dicevo i tre punti secondo me sono eh del suo viaggio il il riflettori sull'Iraq il rapporto interreligioso il andare a dare una carezza ai cristiani che sono sopravvissuti alla grande persecuzione a incoraggiare i cristiani e sotto tutte queste tre e sopra tutti questi c'è questo concetto la fraternità quello che è nell'ultima enciclica per cui se eh come si può cambiare il mondo se si riconosce di essere fratelli potrebbe sembrare parole banali eh parole all'acqua di rosa però c'è una concezione profonda sotto per cui se si incomincia da parte dei cattolici dei musulmani delle religioni che già ce l'hanno dentro ma vediamo che eh c'è un dialogo interligioso difficilissimo eh i cristiani sono stati uccisi da seguaci eh della religione che danno una certa interpretazione eh e soprattutto se diventa una concezione politica eh tutto può cambiare cioè se consideri l'altro non un nemico se non pensi a io e tu a noi e loro ma a un noi globale eh tutto può cambiare il Papa ha cominciato questo già in Colombia quando ha fatto gli incontri io mi aveva coperto molto gli incontri con eh i movimenti popolari lì secondo me ha fatto il primo nucleo di questo pensiero che adesso si è eh come eh cristallizzato è diventato più profondo dentro l'enciclica e in questi giorni è stata una parola ricorrente fraternità quindi eh questo rapporto con con i musulmani sciti eh lui è gesuito ha spesso l'idea di iniziare eh iniziare dei processi cioè i processi non li concluderà probabilmente però questi qui è un inizio dei processi così fa in Cina un'altra cosa molto criticata ma è nel suo piano è molto logico eh aver fatto un accordo segreto col governo cinese che però inizia un processo e adesso anche con gli sciti dopo essere in casa di Assistana il Papa è andato sulla tomba di Abramo e lì si è incontrato con le altre religioni c'erano i musulmani sulla tomba eh scusate sulla casa di di Abramo ci sono delle orvine che secondo la tradizione sono ancora quella siamo arrivati era all'aeroporto e prima ha fatto una strada tutta nel deserto c'era solo terra 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 non c'era un filo di verde e poi c'era questo palco con queste tende eh dove che ricordo la tende di Abramo immagino e su cui si erano i capi religiosi quando è arrivato il Papa e vicino c'era questa eh queste rovine di una grande casa eh con i eh soldati che la vigilino eh e tu stai lì e pensi che dove eh gli è arrivata l'indicazione lascia la tua terra vai io ti darò una eh una progenie che sarà più ampia delle stelle del cielo e quelle persone siamo noi come se eh avesse raccontato di noi Dio ad Abramo eh la moglie che che ride quando gli dice ti darò un figlio e Dio queste tre persone che lui ha invitato tre stranieri che poi parlano come fosse solo una persona nella Bibbia una prefigurazione della Trinità eh lui eh mantiene la promessa non dice eh hai riso non ci crede quello che non è una volta ha fatto una promessa la promessa la mantiene questo è molto consolante per ognuno di noi per vuol dire che la promessa di Dio quella che ha fatto lì ad Abramo e che ci fa in ogni incontro che ognuno di noi fa con lui viene mantenuta e quindi quando stavi lì e pensavi a tutte queste cose eh ci sembrava veramente di stare eh vivendo un pezzo di storia in quel momento da raccontare io nel mio telegiornale gli altri giornalisti eh sì questo stavo pensando proprio no? però è la necessità di una grande sintesi per cui sì certo però io capisco in pieno in modo molto diverso ovviamente ma la necessità di raccontare quando siete testimoni di di della storia o comunque di eventi storici in luoghi così profondamente importanti ehm per tutti noi tre sorelle no? Le tre religioni sorelle che nascono qua l'Iraq forse è il posto simbolico dove dove iniziare questo processo di 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 promozione della fratellanza di tutti i popoli di tutte le religioni ricordiamo un mosaico di etnie e religioni diverse più o meno conosciute i cristiani di cui poi ci sono molte molte forme eh musulmani sciiti sunniti gli asidi gli shabak e via dicendo ne abbiamo incontrato noi tante gli zoroastriani ci sono i ce ne sono tantissimi non ricordo neanche tutte il viaggio continua poi eh verso nord verso le città che sono state che io ho imparato a conoscere pur non visitandole eh per lavoro musul la seconda città più importante d'Iraq eh le piane le piane di Ninive eh a prevalenza cristiana ma appunto dove c'è questo mosaico di etnie antichissime religioni che sono state teatro di questa guerra di di crimini eh orrendi di tragedie indicibili perpetuate dai terroristi dell'Isis dal 2014 al 2015. Oggi fondamentalmente l'Isis è sconfitto o perlomeno quello che io preferisco dire è tornato sottoterra. Isis è una è una manifestazione di un profondo discontento di grande ignoranza di un uso di un abuso della della religione su una popolazione molto molto indebolita sia a livello spirituale che a livello educativo che a livello economico quindi fa presa quindi c'è purtroppo e non è del tutto sparita ma cosa cosa ha lasciato dietro cosa cosa ci puoi dire di Mosul arrivare io qua sono emozionato perché le nostre prime immagini che raccontavano la guerra erano proprio fuori da Mosul il 12 di giugno il giorno due giorni dopo la caduta della città quindi sono curioso un po' di sapere cosa hai trovato al vostro arrivo a Mosul. Guarda Mosul sembra di entrare in una città terremotata ma terremotata pesantissimamente solo che è stata bombardata. Il Papa stesso è rimasto molto impressionato in aereo ci ha detto io ho visto avevo letto libri ho visto immagini ma non mi aspettavo quello che ho incontrato in effetti arrivi lì e non ti aspetti quello che incontri la messa l'incontro è stato fatto fatto un momento di preghiera per le vittime della guerra nella piazza cosiddetta delle quattro chiese perché c'erano quattro chiese quattro riti e sono tutte completamente ancora tutte distrutte come tutto il resto e stare lì per lui e per noi vedere questo sapere che quella era la capitale dell'Isis di questo stato orrendo ma che aveva creato l'orrore nel nome di Dio questa è la cosa più impressionante c'è qualcuno che crede che può credere che Dio voglia un simile orrore gli azidi un popolo e Papa ne ha parlato spesso ne parlava anche quando prima di andare un popolo che è stato fatto fuggire non la persecuzione è stato solo per i cristiani e le donne in aereo mentre siamo andavamo gli abbiamo mostrato una un foglio a me l'avano dato la anni fa e aiuto la chiesa che le soffre e un collega l'aveva portato gliel'ha mostrato dei del prezzo che avevano le ragazze le ragazze yazide le ragazze cristiane secondo l'età quanto costavano e lui tra l'altro ci ha detto queste cose purtroppo succedono anche nel cuore di roma riprendersi alla tratta alla prostituzione e che che la gente veniva doveva fuggire e dopo musul dopo questo momento di preghiera è venuto a carracoscia carracoscia era la città e dove c'è la ma la maggior la città con più cristiani in percentuale di tutta l'irica c'era il 98 per cento di cristiani e molti sono morti e molti sono fuggiti adesso sono entrati in meno della metà di quello che erano 23 il volto dell'irac il volto cristiano dell'irac rischia di essere trasformato perché vai via hai vissuto delle cose simili non vuoi neanche ritornare il papa incoraggiato a ritornare ma capisce quelli che non vogliono ritornare e quindi rischia di cambiare il volto della nazione perché si perde i cristiani solidati all'inizio più meno da duemila anni e nella chiesa questa chiesa che era stata dell'immacolata concezione che era stata distrutta e hanno dato fuoco alle panche quindi le chiese era tutta annerita le pareti e avevano strappato i libri sacri e il coro era diventato il loro poligono di tiro adesso l'hanno costruito sulle preti ha messo del marmo io avrei lasciato come in tante altre chiese i segni i segni di sulle colonne qualcosa invece evidentemente vogliono ripulire la memoria di questo orrore hanno messo la madonna sul campanile a protezione e lì c'è stata una testimonianza che mi ha colpito molto e l'ho segnalato a un mensile tracce che l'ha messo sul sito e poi all'aereo di ritorno l'ha messo subito sul sito sull'aereo di ritorno il papa ha detto questo è quello che mi ha colpito di più una donna ha parlato un sacerdote che è fuggito insieme a tutti gli altri ha detto siamo fuggiti non abbiamo più niente siamo andati al bir quindi nel kurdistan iracheno che è una regione autonoma e quindi anche se 60 chilometri si sono potuti salvare in molti non avevamo niente non avevamo cibo non avevamo vestiti non avevamo niente abbiamo vissuto un'esperienza simile e una donna ha raccontato che è arrivata la prima bomba dice sappiamo che c'era l'isis non pensavamo arrivasse riuscisse ad arrivare arrivasse così presto i miei figli stavano i figli stavano giocando noi facevano le nostre occupazioni è arrivata una bomba che ha ucciso mio figlio che giocava altre due persone queste tre persone sono degli angeli perché ci hanno permesso ci hanno permesso di fuggire mi sto ancora emozionando a raccontarlo cioè una che gli muore il figlio e dice in qualche modo è stato un bene perché ha salvato la vita di altri questa è una concezione della vita che al di fuori di qualsiasi una cosa dell'altro mondo ti hanno ucciso il figlio sono d'accordo e tu riconosci che è un bene cioè se non c'è una profonda esperienza cristiana il papa in aereo ha detto questo è il vangelo vivo se c'è una profonda esperienza cristiana una cosa del genere è da folli pensarla cioè ti stupisci quando la senti figurati poter dire una cosa del genere e lì ci sono stati i massacchi sulle case scrivevano la n io mi ricordo all'epoca quando è uscita questa notizia gli atti degli apostoli gli atti dei martiri indicano con una n e che per noi è per loro e per noi è diventato una n di gloria perché l'enna della del martiro e invece era il modo con cui umiliavano e li identificavano quindi stare lì nel luogo nel cuore di quello che è stato l'isis il tentativo di creare uno stato che rimanesse e che poi conquistasse il resto dell'ira che forse del resto del mondo qualizzando le forze fondamentaliste musulmane e il papa ha detto ha fatto un accenno lì poi l'ha ridetto nell'udienza successiva del mercoledì ha detto mercoledì stava raccontando come tutte le volte dopo i viaggi raccontando le sue impressioni del viaggio a un certo punto si è fermato ha smesso il discorso ma io voglio sapere voglio sapere chi vende le armi terroristiche però la domanda che volevo farti era legata secondo te la la vista di papa francesco le sue parole le preghiere in questo luogo proprio a caracosce può dare un po' di speranza a queste comunità hai visto la possibilità di queste comunità prendano questa sua visita come un atto di presenza del papa e quindi della chiesa che si fa si fa si avvicina alla loro sofferenza guarda erano increduli io ero dentro la chiesa aspettando il papa ed erano increduli erano increduli io parlavo con un traduttore con alcune persone mi raccontavano quello che hanno vissuto le donne raccontavano delle loro esperienze anche personali drammatiche di come erano scappati di come erano ritornati alcuni erano rimasti di cosa era successo lì erano increduli che il papa fosse scusate ancora mi emoziono tranquillo erano increduli che il papa fosse lì cioè che il papa potesse essere arrivato lì io pensavo questi a quello che hanno vissuto no tu l'hai vissuto in prima persona anni fa questi li hanno vissuti sulla loro pelle io ho fatto siamo arrivati del bill in ericottero abbiamo fatto il percorso che facevano loro fuggendo sia l'andata che al ritorno abbiamo fatto e poi la messa finale ad erbill questi che hanno vissuto tre anni che sembravano non finire mai cioè uno stato che aveva messo in ginocchio il mondo che faceva attentati in giro per il pianeta che sembrava invincibile cioè hanno preso il potere hanno preso la zona c'erano gli americani non riuscivano a sconfiggere c'era una coalizione internazionale che non riusciva a sconfiggere loro andavano gli era cambiato tutto da un giorno all'altro e invece il papa era venuto lì per cui questo dà un'enorme speranza e spesso dopo un viaggio del papa uno si chiede ma cosa cambierà cosa potrà cambiare beh qui era veramente veramente visibile la speranza il coraggio che gli ha dato il sentire che quello che hanno vissuto di quello che hanno vissuto nulla nulla era perso ogni sofferenza ha avuto un senso e ha incoraggiato anche a ritornare cioè chi era lontano bisogna ricostruire questo questo paese bisogna che voi cristiani ci siate non si può ha detto è terribile che si sia cercato di cancellare la presenza cristiana per questo è un danno e per l'umanità quindi non era solo un problema di una persecuzione religiosa di un gruppo ma che l'umanità intera perde ci perde se va via una presenza con i cristiani quindi questo e poi dopo 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 monsul dopo caracoscia è tornato a erbilla c'è stata una messa allo stadio e credo che sia la prima grande messa nel tutto il pianeta durante la pandemia ci stavo pensando prima di questo incontro effetti da nostra parte del mondo c'è stata una messa con decine di migliaia di persone con la sicurezza lo stadio teneva tre volte di più e quindi la gioia di questi cristiani e di potessi ritrovare insieme davvero fra di loro il papa c'è una canzone che mi ha divertito molto che cantavano cantavano canzoni italiano e una che uno scritto loro diceva con un italiano un po un po maccheronico siamo contentini siamo feliciti abbiamo il papa qui con noi quanto siamo contentini quanto siamo feliciti per cui è anche molto forte per la comunità io ho conosciuto poco ma un po l'ho conosciuta e credo che questo sia un messaggio per loro molto chiaro molto forte quindi questo è molto bello e come lo è per loro lo è per le altre religioni le altre etnie che hanno che hanno subito gravi perdite che hanno rischiato di essere cancellate da dalla 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 cieca violenza dall'odio dall'ignoranza dell'isis ecco hai ragione anche perché il papa è stato molto attento a non parlare sempre solo dei cristiani ma parlare degli altri degli altri che sono stati perseguitati hanno fatto il capo della religione che vi parlare dei suoi parlato gli azili tutti gli altri ma sì questo è fondamentale credo che sia proprio anche fulcro della del pensiero di papa francesco quando si parla di fratellanza dei popoli fratellanza interreligiosa questo è molto importante uno degli argomenti fondamentali in iraq fondamentali anche nel viaggio di papa francesco è la migrazione no il diritto quello che ha detto proprio papa in più occasioni il diritto di ricordarsi il diritto alla migrazione e alla non migrazione che che è un diritto che non è concesso a tutti e che in iraq in modo particolare è fondamentale se si pensa che dall'inizio della guerra con isis è forse la più grande catastrofe umanitaria della seconda guerra mondiale si parla di tre milioni di persone che sono state sfollate un decimo della popolazione e io mi domandavo ti domando se credi che questa il papa ne ha di nuovo parlato se non se non vado errato proprio proprio airbill forse o in occasione comunque dell'incontro con il papà di alan kurdi che non so se vuoi citare se vuoi se vuoi parlarne ma in modo particolare se credi che questo possa aiutare un cambiamento nelle politiche specialmente italiane non è facile incidere su sulle politiche di migrazioni perché quello che in gioco è tanto dal punto di vista politico il papa insiste sa che in molti paesi le sue parole vengono accolte con con fastidio che la sua immagine è proprio perché parla tanto di migrazioni in paesi che non vorrebbero sentire queste parole ne risente ma non gli interessa continua a parlarne ha incontrato sì il padre di questo bambino e ricordiamo tutti è l'immagine di quel bambino che era sulla spiaggia con un vestitino da bambino la magliettina mi sembra rossa sembrava un bambolotto rotto e ha creato un'emozione fortissima in tutto il mondo ed è dato un po il simbolo della migrazione lui ha incontrato il padre privata naturalmente proprio per dare un messaggio sulla migrazione poi in aereo e ne ha riparlato ha detto non cambierà il mondo finché non si capisce che c'è il diritto ad emigrare l'ha detto scientificamente ma con parole molto forti un concetto che ha espresso spesso ma questo del diritto ad emigrare naturalmente altre volte anche noi giornalisti in aereo mi ricordo una volta che un collega gli ha chiesto sì ma c'è anche il diritto degli stati e lui ha detto guardi c'ha ragione ha ragione perché sono due diritti che devono essere messi insieme ma quello di proteggere le vite umane è il primo diritto poi bisogna fare tutte le politiche che servono le politiche di integrazione anche questa volta parlato di politica integrazione non basta accogliere bisogno integrare però questo della della migrazione dei popoli per lui è una delle grandi forse la grande sfida dei tempi moderni c'è lui parla spesso di di terza guerra mondiale pezzi perché ci sono conflitti dappertutto ma la grande emergenza è questa perché in un mondo che è sempre più interconnesso in cui ci si sposta da una parte all'altro dove ci sono le zone ricchissime le zone poverissime e lui che tra l'altro è figlio e nipote di migranti che questa situazione l'ha vissuta moltissima io una volta gli ho dato il l'immagine fotocopiche che mi hanno dato a genova e dentro ero andato dentro il chiedere dentro l'acquario mi piacevano l'immagine e me l'hanno stampato della nave con cui erano partiti i suoi parenti nonna rosa e nonno eccetera e che l'altro si sono salvati solo perché per una questione di biglietti non hanno preso il la barca precedente che è affondata e sono morti tutti quindi non avremmo avuto papa vergoglio se solo avessi preso la barca precedente e quindi queste storie di migrazioni sono sulla sua pelle per quello ci tiene tantissimo e capisce che il grave problema del del mondo che ci aspetta perché le persone migreranno sempre di più creeranno se non vengono accolte in maniera degna e anche intelligente perché ci vuole anche l'intelligenza dei politici che il politico anche questo ruolo il papa e in aereo ci ha detto in questa conferenza stampa facciamo delle domande libere concordiamo tra di noi dei gruppi linguistici ha detto voglio ringraziare tutte quelle nazioni ha detto che vorrebbe andare in libano appena ci sono le condizioni tutte quelle nazioni che hanno accolto hanno accolto milioni di persone pur essendo povere pur essendo disastrate sono delle nazioni che hanno grossi problemi ma hanno messo i loro problemi dietro ai problemi dei fratelli quindi questo ha detto questo mi colpisce mi colpisce molto voglio fare un ringraziamento noi siamo in conclusione avrei ti ringrazio innanzitutto per per questa bella chiacchierata che potrebbe andare avanti a lungo visti tanti punti che si possono toccare vorrei chiederti un'ultima cosa una domanda che è stata fatta a me anche tante volte che cosa ti porti tu via dall'iraq da questa terra antica che è quella delle civiltà delle religioni che è stata colpita con così tanta violenza ripetutamente negli ultimi decenni cos'è un ricordo qualcosa che un'immagine quali sono le immagini che ti porti via di questo viaggio guarda mi porto soprattutto l'immagine di caracoscia di questa città in cui la violenza è arrivata inaspettata e terribile in cui cristiani hanno resistito e hanno preferito fuggire morire mettersi in in pericolo gli anziani partivano senza una lira non potevamo portare neanche dietro non ho avuto tempo di prendere neanche le medicine che sono necessarie sono messe a piedi senza niente pur di dire rimango cristiano io mentre ero lì mi chiedevo ma se succedesse a me se arrivassero mi dicessero ti uccidiamo se adoro un altro dio ma io che farei e quindi pensare quello che hanno vissuto queste persone quanto è stato enorme la loro decisione di fede come abramo cioè sono fidati completamente della promessa fatta loro da dio fino a dare la vita fino a fuggire fino a morire c'è il puntare tutto su qualcosa che ti è stato promesso in un momento in cui quella promessa sembra irrealizzabile perché sembra che abbiamo vinto gli altri cioè che dove è il nostro dio quello che dicono gli ebrei che dicevano si chiedevano gli ebrei nei campi di concentramento ma dove è finito dio cioè è il nostro dio e guarda cosa succede ecco vedere che c'è gente e che ha fatto questo e incontrarli conoscerli vederli lì vederli attorno al papa vedere per strada lì e non tutti per strada cioè mentre a bagdad non vedi una persona e lì le strade e forse molti l'avranno visto in televisione erano un corteo continuo di gente entusiasta commossa emozionata che salutava noi per solo perché eravamo vicini al papa e nello stesso corteo e quindi per loro eravamo importanti anche noi ecco vedere tutto questo vedere la speranza che nasceva che rinasceva e che non era mai morta mi sembra veramente di stare dentro gli atti dei martiri con una con una concretezza che io non ho mai che non ho mai